ciao a tutti sono fabiola free episode un'anima libera e felice oggi vi parlo proprio di felicità in questa prima puntata di i segreti della felicità siete pronti perfetto anche se non mi avete detto di sì io ve li racconto lo stesso perché se sei arrivato fino a qua è perché ti interessano sicuramente allora molto spesso siamo soliti ad attribuire la felicità a qualcosa quindi cosa facciamo cerchiamo la felicità e nella coppia negli amici piuttosto che in un lavoro o in qualcosa in un oggetto se cerchi la felicità in queste cose mi spiace ma devo dirtelo ma non la troverai perché perché la felicità è in un posto non troppo nascosto però che non è neanche così tanto lontano da come pensi vuoi sapere dov'è te lo dico la felicità è nel tuo cuore la nostra vera felicità è qualcosa che abbiamo dentro è un sentimento che ci portiamo dietro una volta che l'abbiamo tirato fuori più che trovarlo perché è sempre stato qua se ti ricordi quando tu eri bambino eri felice sempre in qualsiasi situazione e quindi vuol dire che è qualcosa di innato e porta fuori porta fuori la tua felicità che questa cosa così forte così potente dentro il tuo cuore e vedrai che una volta che riuscirai a portarla fuori ti accorgerai che che era sempre lì che è sempre stata lì niente io ti saluto spero che il mio video ti sia piaciuto e vi aspetto alla prossima per il secondo segreto della felicità ciao e buona vita felice